Come si tratta di inestetismo del volto? Se invece l'inestetismo diventa un pochino più accentuato e più che altro caratterizzato da una lassità muscolocutanea, è inutile far ricorso alle terapie prima descritte per cui botulini acido ialuronico, bisogna ricorrere alla chirurgia. La chirurgia ci viene in aiuto grazie a interventi ormai codificati con dei risultati standardizzati e stiamo parlando di lifting del volto. Lifting del volto è un intervento che si esegue in anestesia locale sedazione per cui è eseguibile in qualsiasi fascia d'età senza rischio, che porta a dei risultati eccezionali perché si va a trattare sia il rilassamento muscolare che il rilassamento cutaneo, per cui non ci troveremo più davanti a dei visi finti e tirati ma davanti a dei visi freschi e molto naturali. Nel caso in cui ci troviamo davanti invece a un quadro di lassità moderata possiamo ricorrere agli ultrasuoni focalizzati che ci vengono in aiuto per curare questi iniziali inestetismi, soprattutto riguardanti il terzo inferiore del volto e anche gli inestetismi del collo. Gli ultrasuoni focalizzati non è un sostituto del lifting ma può essere una valida alternativa quando ancora l'inestetismo non è pronunciato oppure per persone che non intendono proprio, per scelta propria, approcciarsi alla chirurgia.